Si è svolto mercoledì 10 e giovedì 11 lo spettacolo La mia voce oltre il muro rappresentato dai ragazzi dell'IT e Vitale Giordano presso l'auditorium della scuola. Lo spettacolo racconta la storia del presidente della democrazia cristiana Aldo Moro, sequestrato dalle Brigate Rosse nel marzo del 1978 e ucciso barbaramente dopo 55 giorni di prigionia. Bitonto TV ha incontrato la regista Anna Grande e la coordinatrice del progetto teatrale Lucia Achille. Quest'anno uno spettacolo diverso, siamo abituati a vedere impegnati ragazzi in musical che rievocano anche tempi passati, quest'anno una vicenda più contemporanea che abbraccia il filone storico politico. Perché questa scelta? Non è facile spiegare perché questa scelta, ci sono tante motivazioni. La prima è l'integrazione culturale e la volontà di allargare il programma di storia a qualcosa di più contemporaneo. Gli anni di piombo, gli anni 70 sono gli anni in cui difficili da affrontare nel programma, per cui un approfondimento ci stava. Ci stava anche conoscere questo eroe della nostra politica che è Aldo Moro, uno statista di spessore, di valori morali e molto teso al valore dell'individuo, alla sua dignità e anche al senso cristiano della vita, nel senso più ampio e più largo del termine. Ci ha appassionato anche collegarlo ad altri eventi politici come per esempio l'assassinio di Cesare nelle iddi di marzo del 44 avanti Cristo. Quale è il messaggio che l'ITE ha voluto mandare ai giovani che adesso non credono più nella politica? Spesso si confonde, si fa di tutto un erbo un fascio, i politici sono tutti cattivi. Questo spettacolo ci piace ancora di più perché cerchiamo in questo modo di avvicinare i ragazzi al mondo della politica con un'immagine di statista positivo. Lo spettacolo ha tre quadri, che io definisco tali, ha tre strade. Vengono evidenziate le reazioni dei brigatisti, della famiglia e dei politici. Cosa rappresenta ogni quadro? Naturalmente ho voluto dare un simbolo per ogni quadro. I brigatisti con lo stesso abito perché tutti animati dalla stessa idea della lotta armata. La famiglia, tutti stretti nel loro dolore, quindi quasi un quadro classico di quell'arte greca che mette in evidenza un solo sentimento, il dolore per la prigionia di Aldo Moro e poi i politici che sono stati rappresentati in una maniera un poco claunesca, grottesca diciamo, che viene fuori innanzitutto dall'accompagnamento musicale che non è quello solito ma è una musica strana che accompagna i passi tutti uguali perché guarda caso proprio quell'abito uguale, quel passo uguale rappresenta la uniformità del loro modo di pensare e di chiedere la fermezza per Aldo Moro. C'è un'immagine che è presente nella locandina che più volte viene evocata dallo stesso protagonista e che viene meravigliosamente rappresentata in una coreografia straordinaria perché il ragno? In un discorso Aldo Moro dice io mi sento stretto sempre più in una ragnatela. Lui si sente stretto perché i grandi insetti che incominciano a tessere altro non sono quelli della lotta armata e quella parte dei politici dell'estrema democrazia cristiana. Nessuno, dico nessuno, riuscì ad abbattere la linea della fermezza, fortemente consigliata a Cossiga dallo stratega americano Pizzic, che riteneva necessaria la mia linea per il bene dell'Italia. Aprite, cari giudici, il vaso di Pandora e lasciate librare nell'aria tutti i mani d'Italia fatte e misfatti. Dalle minacce di Kissinger, segretario di Stato americano, a mio memoriale di Magrido, alle incerenze dei servizi segreti, ai dossier scomparsi, ai documenti passificati, al controllo di via montaggiti da parte dei servizi segreti, alle ambigue ammissioni di Cossiga.